In questo video vogliamo parlarvi di una bellissima intervista che il Neil Druckmann ha dato in pasto a Sam White, giornalista statunitense in forze nella redazione dell'edizione naturalmente americana di GQ. Lungo questa lunghissima, questa enorme chiacchierata durata non pochi minuti come spesso accade, nemmeno pochi giorni ma per mesi e mesi ed è naturalmente un collage di più chiacchierate messe insieme, Neil Druckmann ci fa sapere un po' come vede il mondo, vede il mondo dei videogiochi e soprattutto ci fa anche capire in che modo Naughty Dog funziona, almeno in superficie. Infine, e questa è la cosa che ci preme di più, lascia intuire su quel che verrà dopo The Last of Us parte 2. Ci sarà una parte 3 o no? Andiamo a scoprirlo insieme. Per esempio, sono molto interessanti alcuni passaggi che in qualche modo ci fanno scoprire come si lavora all'interno di Naughty Dog. Abbiamo visto che Neil Druckmann è un tipo molto molto introverso, però è anche in una posizione piuttosto nuova all'interno della compagnia, perché è l'unico componente del team da quando Naughty Dog è nata e la sua genesi risale ai primi anni Ottanta, ad aver diretto tre diversi giochi. Quindi abbiamo Uncharted 2, abbiamo The Last of Us e ora questo seguito, The Last of Us parte 2. E Druckmann ammette di disinteressarsi di tutti questi aspetti, degli award vinti, i premi, e soprattutto di lasciare estrema libertà a tutto il resto del team. C'è un passaggio in cui racconta come se e quando, comunque, le sue idee non convincono il resto del team, spesso e volentieri a fine giornata si ritrova una fila di 20 persone pronte a indicargli i motivi per i quali quell'idea in particolare, a loro parere, non funzionerà. Quindi sembra esserci molta democrazia e sembra esserci anche molta democrazia nel modo in cui poi i grandi risultati raggiunti nel tempo da questa compagnia vengono poi distribuiti a tutto il team. Quindi Druckmann cosa dice? Dice che lui non è che va particolarmente fiero dei premi appunto o di tutti i risultati raggiunti. Lui va fiero nel momento in cui il suo team, quello che si è sbattuto per confezionare un gioco tanto imponente, come lo sono stati i giochi Naughty Dog in passato e come promette di essere The Last of Us Parte 2, lui è contento quando il suo team si sente proud, si sente fiero del lavoro, spesso durissimo, svolto e finalmente abbracciato con amore da tutto il pubblico che in qualche modo attende l'arrivo di ogni gioco Naughty Dog come se fosse l'apice di ogni generazione di console. Un altro aspetto molto interessante di questa intervista è che in qualche modo abbiamo vissuto anche noi con il pochissimo tempo a disposizione in compagnia con Mr. Druckmann che ricordiamo oramai ha 41 anni e il suo veloce cambio d'umore tra i diversi appuntamenti che ha avuto insieme a Sam White, questo giornalista di GQ. Ci sono momenti in cui il director appare estremamente silenzioso, di cattivo umore e altre in cui sembra estremamente eccitato e non fa altro che ricoprire di domande il giornalista. Ti piace Uncharted? Cosa ne pensi di God of War? Ce ne sono alcune, non le stiamo inventando. Oppure qual è la storia d'amore preferita che hai mai visto e giocato all'interno di un videogioco? È tutto molto interessante anche perché anche noi abbiamo avuto poco tempo a disposizione con Druckmann e abbiamo rivisto questi suoi due modi di rapportarsi agli altri, soprattutto agli sconosciuti, ai giornalisti che vengono visti comunque sempre come un rischio calcolato perché il giornalista ti può aiutare ma ti può anche accoltellare tirando fuori il leak che non avrebbe dovuto mandare in giro. È tutto molto interessante come lo è il rapporto che Druckmann racconta di aver costruito con Halle Gross. È una 34enne, bionda, molto aggressive nel modo in cui si pone e sembra essere effettivamente il contrario di Druckmann. Halle Gross viene dal mondo del cinema. Tra le ultime cose fatte prima di entrare, Naughty Dog è stata a scrivere alcuni degli episodi migliori della prima stagione di Westworld ed è interessante anche quello che dice appunto Halle perché Halle fa diversi raffronti sulle differenze tra lavorare nel mondo del cinema o della televisione e il modo di lavorare nel mondo dei videogiochi. È molto interessante quello che dice a un certo punto questa giovane donna, 34 anni, si può chiamare così. Dice che lavorare a Westworld è stato come finire Call of Duty mentre lavorare a The Last of Us Parte 2 è stato come partire per la guerra. Ed effettivamente le differenze balsano subito agli occhi soprattutto nel tempo impiegato nella scrittura di questi prodotti così diversi perché ci vogliono pochi mesi per assemblare una stagione televisiva ma ci vogliono anni e anni per vedere prendere finalmente forma un videogioco soprattutto del calibro di questo attesissimo seguito. La parte finale dell'intervista non è meno interessante dell'inizio del corpo centrale perché è qui che Druckmann parla del rapporto che si è creato un rapporto assolutamente speciale tra il pubblico e The Last of Us soprattutto per quel che riguarda il gran finale di The Last of Us e ci fa anche sapere che nel corso degli anni ha ricevuto tantissimi messaggi che chiedevano a gran voce un seguito ma senza Ellie e Joel senza quindi andare a rimaneggiare proprio il climax finale del capostipite del primo The Last of Us e Druckmann ci informa anche che pensare a un The Last of Us senza i suoi due protagonisti principali sarebbe stato del tutto inutile un modo per far capire al pubblico che Noddy Dog non aveva abbastanza coraggio per proseguire quel discorso proseguire quella trama insomma Druckmann dice a grandi linee che se non ci sono Ellie e Joel se non c'è l'America il countryside americano tipico della serie beh tanto valeva creare un prodotto ex novo una nuova proprietà intellettuale per quel che riguarda il futuro Druckmann non è lapidario questa volta dice a grandi linee vi cito il quote vero e proprio dice potrebbe essere un nuovo The Last of Us o potrebbe essere qualcosa totalmente nuovo in qualsiasi caso sarà l'idea migliore ad essere scelta ma noi sappiamo in cuor suo che probabilmente il futuro di Druckmann e soprattutto il futuro di Naughty Dog è con molte probabilità nelle mani di un gioco totalmente nuovo questo è Multiplayer.it continuate a seguirci attraverso tutti i nostri canali sito web, twitch, youtube e alla prossima grazie a tutti